Il problema è che io entro con un jack della chitarra e esco con un jack che va alla linea. Si ma ne in cortomassa è... Pronto? Ciao Vince! La stradina subito dopo il fiume. La finestra sta su anticipating la nostra ferita di ocurre e la nostra ferita di caos. La nostra ferita è un po' spazzesco di attendere e barrett, dalla nostra ferita di augurale e viaggiati come trasce con le spaz governmentare, Ma stia la città si è più o meno che fa. Sì, che è più o meno o meno che sono i livelli per la città dell'azione di acquistano. Non ho un po' spazzesco. Non ho un po' spazzesco. Non ho un po' spazzesco di attenzione. Non ho un po' spazzesco di attenzione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.